Buonasera, tragedia Sydney in Australia, il sassolese Andrea Benedetti, 26 anni, è morto dopo un volo di 7 piani, il ragazzo era rimasto chiuso in ascensore insieme ad altre persone che hanno forzato la porta, Andrea non è riuscito ad appoggiarsi al piano di sotto e la sua caduta è stata letale, ancora incerta la data del funerale, alla famiglia le condoglianze dalla nostra redazione. Grosso temporale in città, intorno alle 14.30 si è scatenato il nubifragio, con grandine e forte vento. Acqua alta in zona industriale, portici, bagnati, in piazza piccole ed intorni. L'entità del temporale è poi diminuita e per ora non si segnalano danni a cose o persone. Sono stati assegnati i riconoscimenti del premio regionale Economia Verde, assegnato da Legambiente. Nella sezione Industria l'ha spuntata una dita di sassuolo, climatica ceramica. Ecco l'intervista al titolare Simone Baroni. Simone, ancora un riconoscimento, l'imprenditoria giovane sassolese che va avanti anche nel settore ceramico inventando delle cose molto belle che fanno bene anche all'ambiente, questa volta premiata questa imprenditoria da Legambiente in prima persona a livello regionale. Sì, effettivamente siamo stati molto contenti perché abbiamo intrapreso questo concorso e ci hanno detto che è stata una sorpresa prima quando siamo presentati alla premiazione che avevamo vinto il primo premio nella categoria Industria, che era suddiviso in tre categorie, Industria, Agricoltura e Servizi, ed è stato molto interessante anche perché a Legambiente sappiamo tutti cosa rappresenta e il fatto comunque di essersi inseriti in questo premio con altri competitors che hanno una storia ben più lunga della nostra, insomma ci fa molto piacere e molto onore, per cui è stato un riconoscimento inaspettato ma sicuramente è gradito. Specifichiamo che la vostra è una produzione veramente particolare e lo diciamo per le persone che non lo sanno, utilizza dei metodi e anche delle componenti particolari nella produzione stessa. Sì, a noi piace dire che stiamo puntando molto sull'innovazione artigianale, per cui siamo andati a riscoprire delle tecniche produttive passate come l'estrusione per trafila, però questo ha interessato soprattutto il concorso Legambiente, abbiamo anche brevettato un nuovo tipo di impasto che è formato dalla nostra pasta rossa, quindi la nostra argilla locale, unita a delle biomasse agricole che bruciano in cottura, intrappolando dell'aria all'interno del supporto e quindi creando la prima bioceramica, noi la chiamiamo isolante perché l'aria è l'isolante migliore che c'è e questa piastrale all'interno contiene il 50% d'aria, quindi può fare anche isolamento, oltre ad avere una funzione estetica. In più chiaramente abbiamo anche tutta una serie di materiali non isolanti, ma che comunque sposano la filosofia dell'artigianalità e dell'innovazione, per cui abbiamo messo a punto dei grass porcellanati, trafilati artigianalmente, che quindi mantengono un aspetto estetico quasi di un cotto fatto a mano, però con delle caratteristiche tecniche uniche, proprie del grass porcellanato. Abbiamo spiegato cosa vuol dire fare e produrre a livello ambientale alto, quindi parliamo di green a 360 gradi. Un unico vostro rammarico, in Italia ancora c'è poco mercato su questi prodotti, all'estero va decisamente meglio. Sì, diciamo che il nostro sogno era quello di partire in Italia perché fa piacere che un prodotto made in Italy e comunque che ha una filosofia artigianale italiana venga apprezzato in primis dagli italiani. In realtà purtroppo in questo momento del mercato non è così, quindi abbiamo dovuto, siccome siamo un'azienda piccolissima appena partita, cambiare subito l'orientamento e concentrarci praticamente al 100% sul mercato estero perché ci riesce a dare delle garanzie comunque di volume, delle garanzie soprattutto di pagamenti e purtroppo è vero, nemo profeta in patria nel senso che l'innovazione italiana spesso è più apprezzata forse all'estero che dagli italiani stessi, quindi questo da un lato è oramarico, dall'altro però ci apre le porte, ha un potenziale sicuramente molto interessante. Sorpresa per tanti sassolesi transitanti per piazza Garibaldi. Stamattina verso le 11 c'erano i cantanti Max Pezzali e Neck che stavano girando alcune scene del programma Le strade di Max. Tanti giovani e gli adulti che hanno immortalato il momento con una foto o con un video e che si sono goduti le riprese dei cantanti e delle loro moto, elementi centrali del programma On The Road del cantautore. Tra l'altro Max Pezzali ha anche origini sassolesi, suo padre infatti è nato nella nostra città. Passiamo allo sport. Risultato super ai campionati italiani under 16 di tennis per la sassolese Beatrice Torelli, atleta tesserata per lo Sporting Club. Al torneo svoltosi a Torino Beatrice è arrivata seconda, battuta soltanto in finale dalla compagna di nazionale Verena Hofer, testa di serie numero 1 della manifestazione. Beatrice Torelli è stata accompagnata dal maestro Massimo Nicolini. Per oggi è tutto, arrivederci a domani. Grazie a tutti.